Ciao ragazzi sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. La fotografia in generale e soprattutto la storia della fotografia sono ricche di avvenimenti interessanti e che molte persone non conoscono o magari danno semplicemente per scontati. Bene nel video di oggi ho raccolto per voi sei curiosità sulla fotografia e la sua storia che un appassionato che si voglia definire tale non può non conoscere. La curiosità fotografica numero uno è che la fotografia più vecchia della storia che si è aggiunta fino a noi ha quasi 200 anni o meglio 194 per essere precisi. Intitolata veduta dalla finestra a Le Gras e scattata da Nice for Nipc nel 1826 oltre a essere la prima fotografia della storia ha anche un'altra particolarità. Richiese infatti un'esposizione di ben 8 ore per essere realizzata. Se pensiamo che con una qualunque macchina fotografica ragionevolmente recente sia a rullino che digitale oppure anche con il nostro cellulare il processo di scatto dura al giorno d'oggi in media una frazione di secondo ci possiamo rendere conto di quale sia stata l'evoluzione del processo fotografico in tutti questi anni. Piccola curiosità nella curiosità. Per diverso tempo venne messa in dubbio l'autenticità di questa foto dato che non corrispondeva ad alcuna veduta dalla casa che all'epoca fu di Nipc. Venne però scoperto che durante una ristrutturazione la posizione della finestra originale era stata spostata e quindi l'immagine era assolutamente autentica e corrispondeva perfettamente con la precedente posizione di quella finestra. Tra l'altro il fatto che sia una veduta dalla finestra dello studio di Nipc vista la situazione attuale in cui siamo tutti chiusi in casa e il paesaggio che vediamo più spesso in questi giorni e quello oltre le finestre della nostra abitazione la rende secondo me ancora più interessante. La curiosità fotografica numero 2 è sull'inventore della reflex a pentaprisma. Per molti anni dall'invenzione della fotografia nella seconda metà dell'ottocento e fino agli anni 40 del novecento le fotografie venivano scattate con apparecchi tipo quelli a pozzetto o a telemetro in cui il fotografo non poteva appoggiare l'occhio alla fotocamera e vedere in tempo reale quello che stava effettivamente inquadrando l'obiettivo. Un problema per alcuni molto sentito e che portò nel 1948 all'invenzione delle macchine reflex a pentaprisma così come le conosciamo ancora adesso. La luce passa attraverso l'obiettivo, colpisce uno specchio, rimbalza all'interno di un pentaprisma che raddrizza l'immagine e il fotografo appoggiando l'occhio nel mirino può vedere esattamente cosa sta inquadrando l'obiettivo. Nel mondo fotografico attuale in cui a dominare sono essenzialmente i grandi marchi giapponesi o la tedesca Laika, molto probabilmente sareste portati a pensare che sia stata una di queste aziende a proporre sul mercato la prima fotocamera reflex dotata di questa tecnologia. Beh, non è affatto così. Lo sapevate che è stato proprio un nostro connazionale a inventare e commercializzare la prima reflex a pentaprisma del mondo? Si chiamava Telemaco Corsi, era un avvocato e inventore romano e la sua Rectaflex fu la prima fotocamera reflex a pentaprisma al mondo. Il primo prototipo in legno della Rectaflex, non funzionante come macchina fotografica ma in grado di dimostrare il concetto, venne presentato alla Fiera di Milano nel 1947 e nella seconda metà del 1948 l'innovativa fotocamera venne ufficialmente rilasciata sul mercato. La Rectaflex era equipaggiata con un mirino che per l'epoca rappresentava una novità assoluta. Grazie a un prisma inserito fra il vetro smerigliato e l'oculare permetteva di osservare un'immagine dritta da cui il nome Recta e con i lati non invertiti come negli altri mirini delle reflex a pozzetto. Tra le altre caratteristiche la Rectaflex era equipaggiata con uno stigmometro per la messa a fuoco manuale di precisione e con un otturatore a tendina con la velocità massima di un millesimo di secondo. Insomma un'altra grande eccellenza italiana di cui tutti noi come fotografi dovremmo andare fieri. Vi lascerò in ogni caso alcuni link qua sotto in descrizione nel caso vi andasse di approfondire la sua interessante storia. La curiosità fotografica numero 3 riguarda la più grande collezione di fotocamere al mondo. Ora io ad esempio ho in casa un paio di Sony A7III che uso per lavoro, un paio di reflex a rullino, una fotocamera istantanea Fujifilm e una compattina digitale per un totale di sei apparecchi fotografici. Ecco se ad alcuni di voi questi sei apparecchi possono sembrare tanti vi assicuro che non sono nulla rispetto alla collezione del signor Dilish Parekh, un gioielliere e fotogiornalista di Mumbai che è nel Guinness dei primati per la più grande collezione di fotocamere al mondo. Stiamo parlando di ben 4425 fotocamere di ogni genere che ha iniziato a collezionare nel 1970 quando suo nonno gli regalò la prima macchina fotografica. Da allora il signor Parekh ha continuato a cercare e acquistare qualunque tipo di macchina fotografica gli capitasse a tiro, frequentando mercatini delle pulci o leggendo avidamente gli annunci di compravendita nei giornali locali. Nella sua collezione trovano posto tra le altre una fotocamera per daguerrotipo del 1890, una fotocamera nascosta all'interno di un accendino zippo oltre a una fotocamera spia della seconda guerra mondiale che ha recuperato da una discarica nella sua zona. Ora non so voi ma se io avessi una collezione grande solo un decimo di quella del signor Dilish Parekh molto probabilmente mia moglie mi avrebbe già cacciato di casa insieme alle fotocamere. Al di là di tutto e battute a parte il bello di Parekh è che lui non è un semplice accumulatore seriale ma continua a utilizzare quotidianamente le fotocamere della sua collezione portandole in giro per l'India a raccontare tutto quello che succede intorno a lui. Insomma un vero e proprio amore per la fotografia e lo strumento fotografico che noi dovremmo ammirare e apprezzare. Al numero 4 abbiamo una curiosità fotografica che riguarda il flash. Al giorno d'oggi i flash per le nostre fotocamere sono tutti costituiti da una speciale lampadina che semplificando al momento dello scatto fa un lampo brevissimo che illumina il soggetto della nostra foto. Beh non è ovviamente sempre stato così. Quando non c'erano ancora le lampadine o comunque la loro tecnologia non era ancora abbastanza avanzata i fotografi per illuminare le loro scene quando la luce naturale non era sufficiente utilizzavano dei marchi ingegni che erano molto molto simili a dei fuochi artificiali con tutti i rischi collegati. I primi flash della storia nati intorno alla fine dell'ottocento non erano altro che delle specie di torce su cui il fotografo andava a posizionare una miscela di polveri di magnesio e sali di potassio che una volta incendiata produceva un forte lampo luminoso. Si trattava a tutti gli effetti di una reazione esplosiva e molti fotografi purtroppo rimasero feriti e alcuni addirittura morirono nello scattare le prime fotografie con il flash. Col tempo la tecnologia migliorò e a partire dagli anni 30 del novecento nacquero le prime lampade flash e nulla a che vedere con le lampadine moderne però si basavano sempre sull'esplosione della polvere di magnesio confinata però all'interno di un contenitore con l'ulteriore svantaggio di essere usa e getta. Fatto il lampo la lampada flash andava buttata e sostituita con una nuova. Ci volle fino agli anni 60 con la nascita dei cubi flash della Kodak prima che i fotografi potessero avere a disposizione un dispositivo in grado di garantire più di un singolo lampo. Contemporaneamente iniziarono poi ad arrivare i primi flash elettronici così come li conosciamo ancora oggi. Inizialmente erano utilizzati solo dai professionisti a causa del loro alto costo ma fu a partire dalla fine degli anni 70 che iniziarono a diffondersi al grande pubblico soppiantando definitivamente i vecchi dispositivi usa e getta e rendendo la fotografia con il flash elettronico alla portata di qualunque fotoamatore. La curiosità numero 5 riguarda le fotocamere che hanno catturato i primi scatti della superficie lunare con le missioni Apollo. Quando il 20 luglio del 1969 la missione Apollo 11 decollò in direzione luna aveva a bordo delle fotocamere Hasselblad per documentare l'allunaggio. La Hasselblad e la NASA avevano iniziato a lavorare insieme nel 1962 durante il programma Mercury facendo diversi test per essere sicuri che le fotocamere sarebbero stato in grado di operare nelle proibitive condizioni ambientali dello spazio. Per preparare le fotocamere alla missione la Hasselblad dovette rimuovere tutta una serie di componenti per ridurre al minimo il peso e contemporaneamente progettò un contenitore per la pellicola in grado di contenere un rullino da 70 pose anziché le consuete 12. I modelli prescelti per la missione Apollo furono l'Hasselblad data camera o HDC con un obiettivo Zeiss Biogon 60 mm f5.6 e l'Hasselblad electric camera o HEC con un obiettivo Zeiss Planar 80 mm f2.8. Armstrong scattò tutte le foto del primo allunaggio della storia con la sua HDC attaccata al petto della sua tuta spaziale e la curiosità che forse non tutti sanno è che dopo aver scattato tutte le fotografie e rimossa la pellicola dalle fotocamere queste ultime vennero abbandonate sulla superficie lunare. Il peso infatti è un elemento fondamentale nelle missioni spaziali e per fare ritorno sulla Terra portando indietro dei campioni di roccia lunare da analizzare gli astronauti furono costretti a lasciare indietro tutti gli oggetti non essenziali tra cui le fotocamere Hasselblad. Questo processo venne ripetuto per tutte le successive missioni Apollo e alla fine di tutto il progetto ben 12 fotocamere Hasselblad furono complessivamente lasciate indietro sulla Luna. E non ci bastava ragazzi inquinare il nostro pianeta siamo riusciti a lasciare della spazzatura anche sul nostro satellite. Ben fatto. L'ultima curiosità fotografica del video di oggi, la numero 6, riguarda la prima macchina fotografica digitale. Quelli di voi che seguono da più tempo il canale e in particolare quelli che hanno visto la serie sulle aziende che hanno fatto la storia della fotografia probabilmente lo sapranno già. La prima macchina fotografica digitale fu inventata da Stephen Susson, un ingegnere elettronico di appena 24 anni che lavorava alla Eastman Kodak nel lontano 1975, moltissimi anni prima che la fotografia digitale diventasse il fenomeno di massa che conosciamo oggi. Non appena arrivato alla Kodak al giovane Susson venne assegnato un compito all'apparenza di secondaria importanza. Capire se ci potessero essere delle applicazioni interessanti per un dispositivo elettronico inventato pochi anni prima, il sensore CCD. Questo sensore era in grado di convertire la luce in un segnale elettrico ma da solo aveva poche applicazioni pratiche a causa di alcuni problemi che qui per semplicità andiamo a tralasciare. Susson si mise al lavoro e dopo diversi tentativi riuscì ad arrivare a un dispositivo in grado di scattare fotografie digitali composto da un obiettivo preso in prestito da una cinepresa Super 8, un registratore a cassetta come memoria, 16 batterie nickel cadmio, un convertitore analogico digitale e diverse dozzine di altri circuiti elettronici. Il peso ben 3,6 kg, la risoluzione appena 0,01 megapixel. Ci volevano circa 50 millisecondi per catturare un'immagine, 23 secondi per registrarla su cassetta e circa altri 30 secondi per poterla mostrare sul computer in tutti i suoi 100 pixel per 100 pixel di dimensione. L'accoglienza del progetto di Susson da parte della direzione aziendale fu decisamente tiepida e, per farla breve, non diedero la giusta importanza all'invenzione di Susson che continuò comunque a lavorare al progetto ma senza un grande supporto da parte dell'alta direzione della Kodak. Alla fine, nonostante la Kodak fosse stata l'azienda a brevettare per prima un dispositivo elettronico in grado di scattare fotografie digitali, per vari motivi non riuscì a sopravvivere alla rivoluzione digitale, dichiarando infine bancarotta nel gennaio 2012. Però se oggi siamo tutti in grado di scattare fotografie digitali, lo dobbiamo principalmente a Stephen Susson e alla sua invenzione, quindi grazie Stephen. Ok ragazzi, con questo è tutto per il video di oggi. Se questo video vi è piaciuto o lo avete semplicemente trovato interessante, lasciatemi un bel mi piace e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Fatemi sapere in un commento qua sotto quante di queste curiosità sulla fotografia conoscevate già e soprattutto se ce ne sono altre di cui valga la pena parlare in un prossimo video. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto per non perdervi neanche un nuovo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! 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 Ciao!